...e anche di Bruce, di Bruce hanno un recoligamento ma a John Veloci perché voglio ricordare che oggi il Jordan non è dimenticabile di John Veloci, con che è 63 anni, Jake D, Bruce Prados, John Putarski, John Putarski, John Putarski, con Dechisi, lei, vicini di casa, con 5 film soldati, incredibile, cosa che sta molto a me per essere un pote? ... ... ... ... Grazie.